Amici di Youtube, buongiorno di nuovo dal Silvasuri, oggi è un'occasione speciale, oggi è il 6 giugno e praticamente oggi è un giorno particolare per me e penso per molti di voi perché oggi è il compleanno di un carissimo amico, di una persona squisita, di una persona che in quest'ultimo anno ci ha resi partecipi della sua passione, che è anche la nostra, ma lui l'ha allargata, ha allargato gli orizzonti ha unito il paese, ha organizzato cose che nessuno fino ad oggi ha organizzato non per esaltazione, non per euforia, non per ego, solo per passione perché è una persona veramente squisita e tutti voi sapete a chi mi sto riferendo, mi sto riferendo a Claudio, al Pescaglini Claudiuccio auguri intanto da parte mia per i tuoi 52 anni so che non si dice l'età ma non sei una signorina auguri perché sei una persona speciale e te lo dico dal cuore perché in te ho trovato una persona speciale e gli auguri da parte mia vengono spontanei perché stamattina l'ho saputo così all'improvviso per caso ma te li faccio a nome di tutti, a nome di Angelo, di Pino, di Mauro, di Fabio, di Giulio, di Barbara, di Antonio, di Diavolo Rosso, di Nuccio, di Enzo Monteleone, di Domenico Tomicio dei ragazzi Lombardi, di Marco, Retma, di Olli, di Daniele Zaneda, di Crocoboy, di Muriglia, di tutti di tutti coloro che sono stati partecipi con te in questa favolosa annata perché ti meriti tutto questo perché sei una persona speciale e quindi non ho più parole per ringraziarti e tu lo sai per tutto quello che hai fatto per me però ho una sorpresa per te, come puoi ben sapere non sono tanto normale quindi ho deciso di organizzarti una sorpresa la mia sorpresa oggi è che ho fatto scendere un amico dalla Liguria di nuovo perché ormai mi viene a trovare spesso e darò l'onore a lui di essere il primo tuo vero fan perché vieni qua Angelo perché abbiamo creato il fan club di Claudio Pescaglini 61 detto il trota di Camaiore Angelo, il lignico naturalmente che ormai è sempre qui fisso con me a Silvasuri è onorato di questa cosa, di essere lui il primo a indossare la maglietta ufficiale ed è il primo che insieme a me ti sta facendo gli auguri per questa tua meravigliosa natura, quello che tu sei Claudio quindi per questo io ho l'onore di fare un brindisi con lui alla tua faccia naturalmente Claudio, questo è perché te lo meriti perché sei una grandissima persona ripeto, da parte mia e di tutti i ragazzi e tu sei a chi mi riferisco naturalmente a quelli con cui tutti i giorni siamo in contatto da Pino, da Mauro, te li ripeto, da Angelo, da Claudio Cielprincipe da Fabiuccio Baffardello, da Barbella Giuli da Antonio Antmedio, da tutti i ragazzi ok Claudio, veramente grazie di esistere, grazie e dato che siamo qua, do l'onore e il piacere ad Angelo dato che tu non ci sei, questo è un altro mio regalo per te la torta non ce l'ho fatta a comprartela ma ti ho preparato questa piccola sorpresa e do l'onore ad Angioletto di soffiarla per te vai Angelo auguri Pescalini, auguri ciao ciao